Ogni tanto una gioia per i conti economici rosso della regione Abruzzo. La montagna del disavanzo, ad oggi calcolata sui 721 milioni di euro, è infatti destinata ad abbassarsi a 650 milioni. Ad annunciarlo il presidente della prima commissione bilancio, Maurizio Di Nicola, riferendosi ai numeri che stanno uscendo fuori dal riaccertamento contabile dell'annualità 2015, che la regione sta effettuando obbligata dalla legge a recuperare il tempo perduto, sotto l'occhiuto controllo della Corte dei Conti. Il timore era invece che con i riaccertamenti, ad oggi solo quello del 2013, è stato completato, il conto del disavanzo poteva crescere ancora di più e con esso le rate del rientro, ad oggi di circa 60 milioni di euro l'anno, sul gruppone dei cittadini e contribuenti. Gli uffici e i dirigenti di settore ci hanno rassicurato da questo punto di vista, ma anche perché, francamente, attingendo alla mia esperienza professionale di avvocato, quando ci sono creditori alla porta che chiedono, non lo si viene a scoprire dal riaccertamento dei conti, lo si scopre dalle richieste che arrivano di pagamento. Non mi risultano, rispetto alla regione Abruzzo, richieste importanti di pagamento, quindi penso che questa attività di pulizia dei conti del bilancio non possa produrre ulteriori spese nascoste. Semmai può produrre, a mio avviso, dei risparmi in qualche modo, proprio perché a volte lasciando le poste contabili indietro nella gestione può capitare che delle risorse si nascondano, ma come risorse da spendere, non come appunto costi da sostenere. Certo, tiene a precisare Di Nicola, il risanamento è ancora lungi dall'essere completato e dunque il bilancio resta rigido, sciali non sono ammessi e le risorse vanno utilizzate in primis per le compartecipazioni ai fondi europei. Io credo che in questo momento sia difficile pensare ad una evidenza di questo tipo. Quello che la regione Abruzzo doveva e deve garantire è la compartecipazione ai fondi comunitari per consentire la spesa dei fondi comunitari. Quella dei fondi europei è la migliore risorsa che possiamo mettere in campo a favore della comunità degli abruzzesi e la regione Abruzzo ha trovato le quote necessarie. Dopodiché la contrazione dei trasferimenti da parte dello Stato che ha interessato i settori del sociale, il settore dei trasporti ci impone una oculata gestione del bilancio proprio al fine di non dover gravare con ulteriori imposte i nostri contribuenti regionali. Questo è l'indirizzo che ci siamo dati come maggioranza di governo e che intendiamo proseguire.